Volevo impressionarti scrivendoti parole che stridessero tra loro in un lottare di immagini inusuali, un gozzare di sensi significanti esemplari per lasciarti in un rapimento, vederti fremere nello scorrere dei righi, farti aprire la bocca su un miracolo casuale e umano, e bastava così poco visto e così a fondo e non avevo capito niente, pienamente venire a prenderti al lavoro, pienamente stringere il tuo freddo nella tasca, dirti appena, appena, chi ci sei, chi ci sono?